Bentornati sul canale non aprite questo vlog, io sono il Gons e oggi siamo qua a parlare di Black Mirror Bordesnatch Novità diciamo di cui parlano tutti e molti la definiscono addirittura un esperimento o un'innovazione In realtà non è così, le storie a bivio esistono da 30 anni perché poi alla fine Bordesnatch è una storia bivio, non è interattivo Se quella è l'interattività io mi chiedo cosa possiate dire di un gioco come Ghost Recon dove spari o FIFA o i giochi di auto Dove l'interazione sulle cose è gigantesca, ma dove sta l'interattività in Bordesnatch? Ma ci arriviamo con calma, le storie a bivio esistono da 30 anni, perché vi dico questo? Perché è stato fatto un, come al solito, un'operazione di comunicazione tramite stampa, di roba, per dire che wow arriva la cosa E ci è stato agganciato dentro il franchise di Black Mirror, che è una serie che è andata molto bene E quindi tac, uno più uno, tac, proviamo a fare questo giochino qua E il giochino ha funzionato, almeno dal punto di vista del parliamone, tant'è che ne sto parlando anch'io Il fatto è che la gente si è esaltata perché gli hanno detto che si doveva esaltare Ma non si è fermata a riflettere sul fatto che Black Mirror, Bordersnatch Border, come cazzo l'ho chiamato? Bandersnatch Scusate, forse l'ho chiamato Bordersnatch Bandersnatch comunque si chiama È un film, in realtà non è un film, è un gioco dove hai pochissime scelte Io non so se voi avete provato a fare un po' di scelte così, come vi è andata Io l'ho fatto, innanzitutto ogni scelta che facevo era sbagliata Quindi non c'era un proseguimento della storia e mi chiedeva di tornare indietro Mi diceva, torna indietro e fai l'altra scelta Scusatemi un attimo, io vi dico che ho uno yogurt alla fragola e uno alla cioccolato E vi dico, scegliete, voi mi dite cioccolato E io quando avete scelto il cioccolato vi dico, ma che cazzo è lo yogurt al cioccolato? Non esiste Vedi che faccio degli esempi del cazzo? Comunque, voi scegliete quello al cioccolato? Oh, hai scelto quello al cioccolato? Mi spiace, quello al cioccolato non c'è, devi scegliere per forza quello alla fragola Questa interazione, secondo voi? Andiamo avanti Il film prosegue e sembra che la cosa cambi Nel senso che fai delle scelte A un certo punto si aggiungono effettivamente dei pezzi di storia Ma che ti riportano ad andare a fare la scelta che non avevi fatto all'inizio Quindi, fondamentalmente, è così Vuoi lo yogurt alla fragola o lo yogurt al cioccolato? Sempre lo yogurt al cioccolato che non si è mai visto né sentito E tu scegli yogurt al cioccolato? Ok, aspetta, scendo a comprarlo Faccio tutta la strada, vado al supermercato, non lo trovo Torno su e ti dico, lo yogurt al cioccolato non c'è Scegli lo yogurt alla fragola Ah, ok, scelgo lo yogurt alla fragola E questa è interattività, secondo voi? Tutto questo perché è stato fatto? Perché il film non è fatto veramente a bivio Con quella profondità necessaria Per cui tu, se all'inizio fai una scelta Si creano due mondi e così via No, è stato fatto con pochissime scelte Le scelte vere sono solo alla fine Tant'è che alla fine, dopo un po' mi sono stufato Però mi sono guardato tipo tre finali diversi Perché so che sono cinque Le vere scelte sono cinque finali Questa è la verità su Bandersnatch Questa è la verità su Bandersnatch Cinque finali Capite che se io vi dico Questo è un film interattivo Ma la verità è che solo i cinque finali potete scegliere Quindi alla fine farete delle scelte Che finiranno, insomma, per farvi cambiare solo i cinque finali È fantastico Pensate che nel mondo di videogames Questa tecnica di costruire la storia bivio Mondi aperti È molto più sviluppata e molto più intelligente E infatti quelli sono videogame E alcuni sono anche molto belli E in alcuni c'è anche una bellissima storia Con delle bellissime scene Ma guai a chiamarli cinema Quelli sono videogame Per carità, io amo i videogame Li ho amati tantissimo da giovane E li considero una forma d'arte Erano molto di più una forma d'arte Quando non c'erano di mezzo tutti questi soldi Quando 4 nerd si mettevano in un scantinato a programmare videogiochi a 16 bit a 8 bit Se li andate a guardare e guardate le illustrazioni che facevano Le musiche che facevano Tutto da soli Quindi scoprirete che quella è veramente arte Arte vera Questo film qua Non è un film Questo è un videogioco Fatto male Paragonatelo a Myst Che è un vecchissimo gioco stupendo Avventure grafiche come Broken Sword O altre Ma di che stiamo parlando? Veniamo alla storia Un ragazzino che sviluppa un pezzo di videogioco Ma vuole farselo pubblicare da una software house Che gli dice Ok, te lo pubblichiamo Ma finiscilo in tempo E lui deve riuscire a finirlo in tempo Questa è la storia Ok? Perché io sento sempre criticare Film della Madonna Ma che storia è? Poi è condita con Personaggi buttati lì Tipo lo sviluppatore di videogiochi più famoso Che con i capelli gialli Gli occhiali finti retro Che si vede che sono fatti adesso Perché adesso va tantissimo di moda la roba Anni 70, anni 80 E quindi viene rifatta E quelli che c'è indosso lui Sembrano Adesso qualcuno che si intende di moda E di occhiali E cose del genere Mi dirà No, che cazzo dici? Ma per me quegli occhiali lì Non sono una riproduzione degli anni Sembrano esattamente La classica roba che si compra Lipster fashion victim Che vuole fare il figo anni 80 Tutto strafinto E guardate le scenografie Sono un finto retro Cioè sembra la casa di uno che vuole Uno che c'ha i soldi E si compra tutti gli oggetti di design antico Cioè quello non sembra un film ambientato in quell'epoca lì Sembra un film di oggi Con gli oggetti presi In un negozio di design Se volete vedere un film che sembra ambientato nell'epoca giusta Guardatevi Sospire di Luca Guadagnino Dove non ci sono oggetti strani Allora io intanto Ho apprezzato tantissimo la prima stagione di Black Mirror L'ho trovata una cosa interessante Ma ragazzi Ma non è un fenomeno così Si vede che non avete una minima cultura Cyberpunk Di fantascienza Non avete cultura su niente Se pensate che Black Mirror sia La luce nel tunnel Che vi spiega Tutta una serie di problematiche Del futuro e dell'evoluzione umana È una bellissima serie Divertente Io ho visto le stagioni dopo Mi sono un po' annoiato Non le ho più guardate Quindi poi voi mi direte che sono bellissime Io mi sono fermato alla seconda stagione A metà mi sono scoglionato Ho altre cose belle da vedere Film veri e propri Me li guardo Poi non dico che le serie siano brutte Perché Breaking Bad è una serie bellissima Scritta benissimo E me la sono guardata tutta Facendo praticamente in quel periodo lì Avrò dormito tre ore in tutto Aggiungo anche che Bandersnatch Secondo me ha una trama abbastanza semplice Proprio per una questione di Incapacità di chi guarda Di mantenere l'attenzione Che è un po' il problema dell'epoca moderna Tra l'altro ne parlo in un articolo Che forse pubblicherò su Asalium Che è la rivista su cui stiamo pubblichando Le notifiche che ti arrivano col telefono Joypad Qualunque aggeggio tu abbia Per poter fare le scelte In realtà sono Distraggono molto Perché cosa fanno? Intanto tu sei nella Diciamo nell'illusione Del cinema Quindi stai cercando di farti prendere dalla storia Di entrare dentro la storia Io ho la Playstation e lui mi fa Perché ho il joypad appoggiato sul tavolino E vibra E già quello mi scogliona Perché mi sembra tipo il mio cellulare Ma grosso tipo che pesa 10 kg Cioè fa la stessa vibrazione di un cellulare di 10 kg Però dai ti fa cagare sotto sto film No è la vibrazione del pad A quel punto tu vieni calciato fuori Dall'illusione Non sei più agganciato alla storia Hai perso proprio il pathos con la storia E sei distratto Fai la tua scelta L'ho fatta E passano 30 secondi Ma l'ho fatta la scelta E passano questi 30 secondi Che sta linea si deve Va bene Vedi la scelta Che hai fatto tu Tra virgolette E poi Ti senti soddisfatto Ti senti appagato Il cinema E' arte L'arte che cos'è? La capacità di costruire qualcosa E trasmettere tramite quella Delle emozioni Dei pensieri Delle idee politiche Insomma Trasmettere un'idea Questa è l'arte Può anche non essere un'idea Può anche essere un'emozione Però per farla semplice Diciamo che E' un'idea che io trasmetto tramite l'arte Il pubblico Non ha Né le facoltà Né le capacità Di decidere Per un film Non può decidere per un film Se guardate su internet Sono tutti Pediatri Medici Politici Una volta eravamo tutti allenatori Adesso siamo tutto Siamo tutti esperti di tutto Non siamo registi Non siamo artisti Oppure qualcuno lo è anche Ma lasciamo parlare chi lo è Lasciamo parlare i critici cinematografici Lasciamo parlare chi Chi ha magari una certa esperienza Nel cinema Però Non possiamo decidere noi Come va avanti un film Un'opera Non ne abbiamo le facoltà Ok? Quelle ce le ha l'artista Il regista Perché se no Un domani Allora chiedeteci anche di scegliere La fotografia Quindi Più chiara Più scura Tendente al blu Tendente al verde Ma che cazzo vuol dire? Vi faccio un esempio Ho visto l'intervista a Dakota Johnson Che parla di Suspiria Suspiria È un film horror Io l'ho visto Uscirà il primo gennaio Vi consiglio di andarlo a vedere Allora Quello è un film horror Io l'ho visto Ok? C'è tutto C'è paura C'è soprannaturale C'è splatter Violenza Uccisioni E non sono poche Ok? Quello è un horror Dakota Johnson È stata intervistata E c'è questo video Dove le viene chiesto Se secondo lei Suspiria è un horror E lei Risponde È bellissima Dakota Johnson Tra l'altro È bravissima In Suspiria E lei risponde così No Secondo me no Secondo te no Ecco Vi ho fatto questo esempio Perché Perché Dakota Johnson È l'attrice del film Lei Non ha Adesso Ovviamente Ne ha più Del pubblico medio Però non ha le facoltà E le capacità Per definire Quel film Se è horror o no Probabilmente Non conosci film horror Non ne ha visti abbastanza Non sa Come si definisce Un film horror Uno può dire Uno può dire quello che vuole Ma Fa il tuo mestiere E lei è bravissima A fare il suo mestiere Gli attori Non devono Dire al regista Cosa fare Ok Gli attori Solo pochissimi attori Grandissimi Si permettono Ogni tanto Di dire qualcosa Ma hanno la stima Del regista Quindi se è un attore Di comprovata bravura Non può dire Non dovrebbe dire La sua Perché come spesso Si vede Non ne capisce niente Perché Uno che Non lo so Che fa il pane Uno che guida L'autobus Uno che fa Il manager Uno che Strappa i biglietti Al cinema Uno che guida Il taxi Deve poter Scegliere Come finisce Un'opera Scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate Questo è il mio sfogo Su Black Mirror Che considero Un film Del tutto insufficiente Come film Rovinato dal fatto Che ho dovuto Continuamente Interrompere L'enfasi Che non c'era Perché non mi ha coinvolto Però Ho cercato Di farmi coinvolgere Ma non mi ha coinvolto L'enfasi È interrotta Continuamente Da queste richieste Che poi alla fine Si rivelano Totalmente false Quindi se io Almeno avessi avuto La percezione Di giocare A un videogame Vero Non avrei neanche Avuto la tentazione Di vedere come andavano A finire le altre Mi strego tutta La mia experience Come facevo Con Lupo solitario Leggi Combatti Muori Fine E io lo chiudevo Non andavo avanti E metà libro Lo perdevo Poi mi facevo raccontare Dai miei amici Come andava a finire Quindi Se volete L'interattività Giocate i videogames Che ce ne sono Tanti di belli Se volete Vedere un bel film Vi consiglio La casa delle bambole E ereditari Suspiria Il primo gennaio Se il video Ti è piaciuto Metti like Lascia un commento Scrivi qualunque roba Su tutto quello Che vi ho detto Fammi sapere Cosa ne pensi Ci vediamo Ah iscriviti al canale E ci vediamo Al prossimo video Scriviti al canale